Accogli il tuo fratello come Gesù. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, buon inizio settimana. Prendiamo in mano la parola di Dio, la Bibbia e leggiamola per ricevere edificazione da Dio. Il Vangelo di oggi è Luca 9, 46, 50. Nacque poi una discussione tra loro, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo tra tutti voi, questi è grande». Giovanni prese la parola dicendo «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi». Ma Gesù gli rispose «Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi». Cari amici, ecco che ascoltiamo di nuovo ciò che domenica scorsa ci è stato detto dal Vangelo secondo Marco. Subito dopo l'annuncio da parte di Gesù della passione morte, c'è questa discussione «Chi è il più grande?». C'è la discussione non tanto se accogliere le parole di Gesù, che cosa vuole dire, come ci vuole guidare, qual è il suo progetto, ma l'importante è il progetto umano. Gesù, dopo questa discussione e conoscendo il loro cuore e la loro presunzione, quindi degli apostoli, prende un bambino, lo mette accanto a sé e dice «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome accoglie a me». È interessante. Gesù è come se da una situazione, da una questione, da una discussione ben precisa chi è il più grande, quindi si va sull'essere, una identità, una superiorità di qualcuno passa ad un agire. Quindi non è che dice «Il più grande è il più piccolo», passa subito a un agire «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome accoglie a me». Cosa significa nella nostra vita pratica, ma anche nella vita dei discepoli, nella vita della Chiesa? Significa che non è tanto importante chi sei nella Chiesa o a che livello sei, se sei il più grande, chi ha più autorità, chi ha più potere, chiamiamolo, alla maniera umana, ma ciò che importa è il tuo agire, il tuo osservire, l'accogliere. Di nuovo vedete i bambini, la categoria dei bambini, questa categoria che non aveva voce, non aveva una valenza in mezzo ai grandi, quindi erano esclusi fino a che non avessero compiuto i dodici anni per i maschi. Ecco quanto è importante quindi da parte di Gesù questo invito. Lascia perdere chi sei, dove sei, che cosa sarai nella Chiesa. L'importante è che cosa tu dirai agli altri, quali sono le tue parole, qual è il tuo agire, ma anche qual è il tuo pensare verso gli altri. Ciò che Gesù sta proponendo alla Chiesa è un modello che si chiama agape e diaconia, cioè l'amare come lui ci ama, un amare senza limiti, senza condizione. Ecco perché dice chi accoglierà questo bambino, perché i bambini piccolini non erano accolti, erano messi da parte fino a quando non crescevano. Nella Chiesa conta accogliere e diaconia servire. Guardate che sono le tue parole chiavi, i due pilastri che ci fanno progredire come Chiesa, che ci fanno andare avanti affinché noi possiamo essere l'immagine della Chiesa di Cristo, che Cristo ha voluto qui sulla Terra, non l'immagine di chi è il più grande, di chi è il più forte, di chi è più sapiente, di chi ha più doni, ma di chi serve di più, questo sì. Ecco quanto è importante quindi essere in questo modo, essere così, farsi piccoli, quindi anche da parte nostra, per servire, per aiutare gli altri. E allora apriamo davvero il nostro cuore a Dio, apriamoci a Lui chiedendo che venga nella nostra vita. E pensate, oggi la Chiesa ricorda San Girolamo, una persona straordinaria che si è innamorata talmente della Bibbia, della parola di Dio, che l'ha tradotta. Abbiamo la Vulgata, la Girolamo. Abbiamo una bellissima espressione, tanto, tanto famosa e cara, la Chiesa cara a noi, che ve la voglio leggere in un contesto preciso, dal prologo al commento del profeta Isaia di San Girolamo. Se infatti, al dire dell'Apostolo Paolo, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio, colui che non conosce le scritture, non conosce la potenza di Dio né la sua sapienza. Ignorare le scritture significa ignorare Cristo. Amen. Vedete, quella famosa citazione che molto spesso abbiamo sulla nostra bocca, sulle labbra, l'ignoranza delle scritture, l'ignoranza di Cristo, viene da questo prologo al commento del profeta Isaia. Girolamo ha fatto questa esperienza, una parola che si è incarnata dentro di lui, e dice, se io non mi metto in ascolto di questa parola, non faccio esperienza che Cristo è potenza di Dio, sapienza di Dio, non lo conosco, lo ignoro. e la parola di oggi noi non la dobbiamo ignorare, cioè accogli il tuo fratello, servi il tuo fratello, amalo, questo è ciò che conta, non ciò che sei, perché Dio farà di te una grande persona nella misura in cui tu ti apri agli altri. Signore Gesù, grazie per questa parola, grazie Signore perché mi insegni la via giusta. Ti benedico, Signore Gesù, perché anche oggi ho potuto ascoltare e ricevere il dono della tua parola, una parola che è entrata nel mio cuore, a cui io voglio fare spazio, perché produca in me grandi frutti, frutti di conversione mia personale, frutti di accoglienza, frutti di servizio agli altri. Frutti di umiltà, Signore rendimi come un bambino, che io sappia andare incontro agli altri, come tu hai fatto con me e con noi. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Ame. E allora cari amici, ricevete il bellissimo slogan di oggi, accogli il tuo fratello come Gesù. Questa è la via, il nostro agire come Cristo ha agito qui sulla terra, verso i Suoi amici e verso di noi. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Parlami, Signore, ti ascolto. Parla, Signore, perché il tuo servo ascolta. Parlami, Signore, ti ascolto. Ti ascolto.